Sempre a punti, addirittura a podio con Rosberg, la Mercedes W01 è certamente una delle vetture tecnicamente più interessanti della Formula 1. Ha introdotto una tecnologia innovativa esclusiva a Barcellona, l'eliminazione dell'Erascope che di fatto è stato spostato dietro il casco del pilota. Ma da tre gare ormai sta utilizzando l'ala soffiata di provenienza McLaren, ma che a differenza del team inglese della Ferrari non è comandabile dal pilota. Vediamo come funziona. Sopra al profilo principale sono state ricavate due feritoie che si sviluppano in senso orizzontale. Ad esse è collegato un condotto interno che convoglia in un unico canale centrale. In funzione della velocità e dunque della pressione, i flussi vengono canalizzati nello slot posteriore del flap. Alle basse velocità il passaggio d'aria assicura deportanza per gestire la monoposto in curva. Sui rettilinei la maggiore pressione sull'ala interrompe questo processo aerodinamico e il flap non offre più resistenza all'avanzamento. Grazie.